Allora, concentrazione, eh? Premi per partecipare. Oh, c'è uno nuovo. Vediamo un po' che è arrivato. Una cartina. Che pertinente, 3.100. Granata fumogina. Trova, va, 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 va. Ingresso, 6 secondi. Premi per partecipare, ma questa mi piace. Eliminazione. Deposito di belle. Salta, inizia. Via. Allora, l'impero. Io va di là. Sto' fai arrivando, cretinali. Ecco che arrivano. Forse è morto anche lui. Spide. Furse è morto. Spide. Si, grazie per partecipare. Spide. 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 un casino e stiamo già a riperdere un'altra volta no 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 ciao ma avevo un colpo ci vorrebbe il fucile a pompare ora lo compro no mi chiamo a lasciare la mano adesso oh è un bordello andiamo su no mi reazione un'altra volta 25 30 andiamo pianino questo non voglio sghignare no è già morto non andrà più il piano se no si perde facciamo pazienza non andrà più boh mi ha ammazzato per cretino lì non avere che ci dà droide io lo libero vai vai e uccidi la statua è la palla uno è andato qui ce n'è uno dentro non è andato non è andato non è andato no no maledetti qui 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 no c'è da casa venimo qui cerco andiamo piano siamo in ritardo arrivati dal Kitz il creatore e no 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 l'ho ucciso io è sempre lui no no però l'abbiamo recuperato nemmeno uno me l'ha dato mi hanno rubato tutte le uccisioni i ribelli stanno perdendo la filizia sii no quanto coppio sono tanti Dice la meglio se stava a casa Oh che mi ha ammazzato Ma cosa? Non ho capito come si ammazza la prima volta eh Ah e qui da qualche parte lo scende